ciao bella ragazzi sono spada roberto di sarzana anana e sono sarzana caballa e sono il vostro amico di whatsapp seguite i miei video i miei video comunque voglio dire una cosa io avevo già una pagina di whatsapp ce l'avevo già solo che ci mettevo le mie canzoni che cantavo a cappella stessa base e non mi seguivano sono un cantante mio melodico comunque ragazzi seguite tutti i miei video seguitemi voglio salutare gli amici di sarzana alberto rocco andrea venturini andrea nicole rocco francesco rocco salutare mattia colombo vorrei salutare toni colombo tutti gli amici di sarzana che balla gli amici dell'oratorio santamaria e un altro la ragazzo pino vorrei salutare un grande saluto a pino e tutti gli amici di sarzana ciao belli sarzana che balla seguite i miei video su facebook e su instagram su youtube e e mandatemi le vostre emocize su facebook ciao belli